A sconfidi a sconservizi Sulmona sostiene la proposta della DMC Terredamore in Abruzzo di intitolare una strada cittadina ai fratelli Alfonso Lindopelino per ricordarne la memoria ma soprattutto l'alto valore imprenditoriale che li ha distinti nel corso della loro vita. La proposta è stata lanciata al sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, al presidente del Consiglio Comunale, Katia Di Marzio, nel corso dell'Open Day dal presidente della DMC Terredamore in Abruzzo, Fabio Spino Sapingue. Ora a sostenerla e rilanciarla è Claudio Mariotti, presidente di A sconfidi a sconservizi Sulmona. Riteniamo, spiega Mariotti, sia lo veroso intitolare una strada Alfonso Lindopelino, due imprenditori che hanno dedicato la vita alla loro azienda, alla promozione del prodotto tipico cittadino, il confetto, e della stessa città di Sulmona in Italia e nel mondo. Il nostro auspicio è che le istituzioni accolgano la proposta della DMC Terredamore anche per omaggiare tanti confettieri cittadini che mantengono viva una tradizione antica. Infine, a sconfidi a sconservizi Sulmona, lancia un appello a sodalizi e associazioni di categoria affinché sostengono la proposta della DMC Terredamore in Abruzzo.